eccoci tornati qui a New Manu Adams, come sempre bene, non so cosa fare, sto navigando qui su youtube e quindi ho deciso di fare un video, un videotto diciamo come sempre bene, vi volevo dire poi che, se vi ricordate la mia famosa scarra, si è spaccata, forte, tutta spaccata tutta spaccata, non ricomprerò, vabbè, perché un amico l'altro giorno che era a casa mia, era, era, stavo scendendo da, da, da una, da questa scrivania e per sbaglio ho caduto anche la chitarra e si è spaccata, vabbè, un minuto di silenzio per piacere per la mia chitarra da ora, c'è statoONG che era, ma poco piacere per i suoi pochi di sbaglio, non ci sono stati Grazie. Bene, è passato il minuto. Allora, cosa possiamo fare oggi? Non lo so. Allora, perché, vabbè, sono in segno a rotelle, come sapevate di già, e quindi domani viene un mio amico, Mario, lo conoscete, ho fatto una maratona con lui. E adesso non so che fare, ho fatto un video, quindi, col mio nuovo computer Apple, vedete, qui ho anche il mouse Apple, vedete, non so se si vede, ma con il mio mano Adam si vede tutto, ecco, eccola là, con il mio mano Adam si vede tutto, vedete, qui la mela Apple, eccola qua. Ehm, niente. Allora, vi volevo solo annunciare della, della scomparsa della mia terra. Scusate. Ecco, sto meglio, ecco. Allora, basta. Ciao a tutti e ci rivedremo nel prossimo video di Newman Adam. Ci rivedremo nel prossimo video. Ciao a tutti.